Di unione definitiva questa mattina per quanto riguarda la sistemazione del sistema di videosorveglianza con le nuove telecamere? Diciamo che mancano alcuni dettagli ma entro il mese di ottobre la questione sarà chiusa in maniera definitiva e quindi speriamo di avere al pulpesto una città più controllata e più sicura con l'installazione di un numero elevato di telecamere e quindi nei punti più importanti della città ci sarà un controllo che riuscirà sicuramente a garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini e soprattutto anche servirà a combattere quei fenomeni di vandalismo che spesso si ripetono nella nostra città. Quali sono gli ultimi dettagli da Limare? Da Limare adesso bisogna fare la scelta definitiva su due tipi di applicazione però ripeto adesso l'obiettivo si chiude nel mese d'ottobre e tutta sarà chiusa e definitiva e quindi potremmo garantire avere una città più sicura e più controllata. Quindi quando si potrà procedere con l'installazione? E poi ricordiamo anche il numero di telecamere che dovranno essere installate. Le telecamere si parlava di 52, adesso siamo arrivati a 48, sono state 48 camere, i punti più importanti della città, tengo a ricordare che sono installate anche nella villa comunale, due telecamere a ridosso del parco fluviale, poi in alcune frazioni, quindi centri importanti frazionali e quindi diciamo che si sta interpettendo una strada di maggior controllo di tutta la città che poi questo non significa che finisce qui l'installazione delle telecamere e magari nel futuro si potrà prevedere e integrare con nuove telecamere in diversi altri punti della città. E quelle che erano in funzione, che non funzionavano però? Questo è un problema che non mi sono posto onestamente perché si va a mettere un sistema completamente nuovo. Che funziona anche con la rete, con la fibra? È una scelta adesso che dobbiamo fare, che sono due sistemi operativi, quindi quello con il router con il 4G oppure quello con la fibra. Quindi dobbiamo, gli ultimi dettagli da decida, però oramai si parte e non troppo sarà deciso tutto e si partirà. Poi si partirà, ma è prevista l'installazione entro quando? Possiamo dare dei tempi? Io non abbiamo parlato di questi tempi, ma dovrebbe partire subito perché c'è l'urgenza. Cioè per Natale, per Gennaio? Io penso prima, però non mi faccia dare dei tempi perché poi i tempi possono essere sbenditi. Ovviamente c'è anche... Chi c'era in questa riunione oggi? C'era il sindaco, c'era l'altro assessore di Padova, sono io, poi c'erano il RUP, c'era il dottor Angelina e il dottor Cugnini, poi c'erano lo staff di Parida e di Open Fiber. Quindi il problema è questo, dobbiamo accelerare i tempi, e ce lo richiedono i cittadini, ce lo richiedono le forze dell'ordine, quindi è un'urgenza, vista anche quello che succede in città. Quindi speriamo al più presto di avere, sicuramente in tempi non molto lontani, di avere queste città più controllate e più sicure.